ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorred e oggi parliamo di Sanremo 2020 Fiorello baccia Tiziano Ferro dopo tutte le polemiche seguita l'uscita infelice di Tiziano Ferro che aveva ironicamente lanciato l'hashtag Fiorello state zitto il cantante fa pace con lo showman siciliano direttamente sul palco dell'Ariston il caso che ha scosso il festival di Sanremo si chiude ufficialmente quando i due vestiti praticamente allo stesso modo si scambiano complimenti e poi cantano insieme finalmente tu è proprio lì che Fiorello e Tiziano si scambiano un bacio a stampo lo showman siciliano se la ride di gusto ed esclama c'è del bacismo c'è da scommettere che dopo questo siparietto anche per la quarta serata lo share superiore al 50 per cento è portato a casa diversa invece la reazione di Tiziano Ferro di cui si lamenta che il bacio sarebbe dovuto essere lontano di un centimetro e poi esordisce ora mi tocca divorziare da mio marito a parte questo siparietto non posso non dire della standing ovation per Tiziano Ferro che ha proposto al pubblico dell'Ariston un medley delle sue ultime canzoni e voi avete visto la performance di Tiziano Ferro e Fiorello? Se si iscrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se mi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da Joe Red ciao ciao Grazie a tutti.